Assessore Manocchi fermano gli incontri dell'amministrazione comunale con gli operatori della telefonia mobile per il piano delle antenne. Si sta elaborando per un nuovo piano delle antenne ma intanto le aziende hanno presentato un piano di sviluppo. A che punto sono questi colloqui? I colloqui sono praticamente giunti al termine. Abbiamo incontrato tutte le compagnie telefoniche e anche le power company che costruiscono per gli operatori. Abbiamo intercettato il loro desiderata quindi ci hanno significato puntualmente quali sono le loro richieste e necessità su Fano. Faccio un inciso. Il piano di sviluppo viene presentato nell'anno entro la fine di marzo. Quindi di fatto loro hanno già presentato il loro piano di sviluppo però quello che è stato l'interlocuzione ci ha consentito di intercettare concretamente i desiderata ovvero il punto specifico dove la telefonia ha la necessità chiaramente di sviluppare la propria rete e di potenziare la propria rete. Comunque si focalizza in questo momento l'attenzione su Bellocchi e Bellocchi è un problema per quanto riguarda i residenti e per quanto riguarda invece quello che vuole la ditta. Sì, noi con Inuit siamo stati molto chiari. Abbiamo davvero chiesto, fornendo un sito alternativo, di fare dietro fronte e chiaramente di sospendere la realizzazione dell'impianto nel punto indicato. Inuit ci ha espresso tutte le criticità legate non tanto al titolo autorizzativo in quanto tale ma tutto l'iter procedurale che è partito anche legato ai fondi PNRR, anche legato alle evidenze date al Ministero delle Infrastrutture. È chiaro che siamo in una fase davvero molto avanzata. Noi ci ho tenuto a sottolineare che secondo me non è finita finché non è finita e quindi comunque anche stamattina con l'altro operatore telefonico che andrà su quell'impianto vogliamo fornire un ulteriore sito alternativo che faremo entro oggi per cercare fino alla fine di cercare di spostare l'impianto da quel punto. Ci sono novità per quanto riguarda Don Bosco? Per quanto riguarda Don Bosco abbiamo anche lì individuato altri siti alternativi e siamo in contatto diretto con Iliad che è l'operatore telefonico che dovrà realizzare l'impianto anche lì nel giro di veramente di un paio di giorni significeremo anche con uno studio del potenziale di questo sito alternativo quindi fornendo loro tutte le caratteristiche la possibilità di spostarsi da quel sito che è su un sito privato chiaramente. Queste interlocuzioni davvero ci consentono di avere un filo diretto, di cercare di in qualche modo non dico bruciare le tappe però evitare che venga presentata l'istanza, intercettare desiderata, fornire siti alternativi, questo è fondamentale. Anche stamane l'operatore team ci ha detto condividiamo assolutamente questo tipo di strategia, è veramente auspicabile perché molto spesso i tempi delle compagnie telefoniche legate alle necessità di copertura del servizio ma molto spesso in gran parte legati alle richieste chiaramente dei cittadini non corrispondono ai tempi dell'amministrazione comunale che ha dei tempi molto dilatati e non ci fornisce le risposte nei tempi giusti. Ecco noi vogliamo invertire la rotta per cercare di trovare la massima sinergia. Non dimentichiamo Metauriglia? Assolutamente no, su via Iozzino che peraltro è stata presentata un'interrogazione, come ho precisato ieri sera ma veramente ci tengo a sottolinearlo, la ricerca su quell'area era già stata recepita sul piano delle antenne approvato in consiglio comunale il 20 marzo 2024. L'ulteriore area di ricerca è di Iunwit che si sovrappone a Vodafone, quindi che costruisce per la stessa compagnia telefonica non era stato previsto un sito alternativo, quindi nel precedente piano non era indicato un sito alternativo all'area di ricerca lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo individuato, abbiamo già significato questo agli operatori telefonici la compagnia che cerca per essere chiare non è Iliad ma è Iunwit per Vodafone Team e abbiamo appunto spiegato loro in maniera precisa che abbiamo individuato un sito alternativo che gli significheremo immediatamente o di evitare che venga poi presentata l'istanza e si ragioni su un sito che per noi non si confà.